Ho imparato a stare bene con me stesso e chi tenta di distruggermi è il tempo perso. Adesso ti faccio assaggiare una cosa. Cos'è? Tu provala. Perché non cambi lavoro? Perché? Questo lavoro è comodo. Cinque ore e poi sono libero. Posso venire a dormire a casa tua? E che non abito da sola, se non ti dispiace stare mezzi pazzi. Grazie. Alù? Ah, rabbia, vabbè. Ghoduà? Beh? Asma, famma moshkla? Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè.